Musica Mercoledì 11 ottobre, buongiorno a tutti voi cari telespettatori, ben ritrovati. Questa è la Rassegna Stampa. Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno. Oggi ne ricordiamo due, in realtà abbiamo San Filippo di Acono, quindi auguri a quelli che portano il nome di Filippo, però oggi la Chiesa ricorda anche San Giovanni XXIII, il Papa del Concilio Vaticano II, canonizzato il 27 aprile del 2014 insieme a Giovanni Paolo II. Il sole è sorto alle 7.17, tramonterà alle 18.32 minuti. Per il tempo non abbiamo molto da dirvi, se non che oggi sarà una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, con temperature senza variazioni di rilievo e così per tutto il resto della settimana. Vi chiedo scusa perché ieri nel telegiornale vi abbiamo dato una notizia parzialmente vera, nel senso che all'ultimo minuto era aggiunta in redazione la notizia che c'era stato purtroppo un decesso tra Fanno e Pesaro, un uomo, un uomo riverso sulla strada. Ci siamo precipitati, abbiamo mandato il nostro balestra lì sul posto, il quale così molto velocemente è riuscito a prendere delle informazioni. All'inizio vi abbiamo detto che si era sentito male e quindi era deceduto per questa ragione. In realtà poi oggi i giornali, che ieri hanno avuto chiaramente più tempo rispetto a noi, di verificare la notizia, forse stanno più simpatici a chi, i colleghi erano lì, erano forse più simpatici e quindi hanno avuto più informazioni oppure siamo stati poco bravi noi, non lo so, comunque sia, la persona che ieri è morta tra Fanno e Pesaro è stata investita da un'auto, quindi tutta un'altra storia. Allora andiamo a vedere i giornali dunque. Attraversa la statale a piedi, muore falciato da un'auto, questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, anziano travolto ieri sera davanti all'hotel Miramare, è sbucato dal nulla, nel buio. Raccontano i due che stavano sull'auto, dentro l'auto che appunto l'ha investito. È un 83enne, è un 83enne che ieri sera intorno ai 19.15, lungo la statale di Fosso Signore, in direzione Fanno, ha perso la vita. E questa è la prima pagina del Corriere. Poi c'è un altro incidente invece, con tanto di fotografia di Eliambulanza che è atterrata sulla A14, uno schianto contro il cantiere in autostrada, una macchina che è finita sulle barriere per il cambio di carreggiata, disagi al traffico per ore. Quattro feriti, questo è il bilancio, uno è grave, interviene appunto anche l'elicottero. Entriamo allora nella pagina del Corriere Adriatico, senza dirvi troppo, nel senso che la vittima è Antonio Ippoliti, 83 anni, sotto sciocchi coniugi a bordo della Peugeot. Loro raccontano appunto che quest'uomo è sbucato dal nulla. Queste sono le immagini, le fotografie dei due carabinieri che erano sul posto a fare i rilievi. Statale Adriatica chiusa dalle 19.30, in entrambi i sensi per ore vicino all'hotel Miramare. Anche il resto del Carlino parla di questo incidente avvenuto verso le 20.30 a Fosso Signore attraverso il burro della statale, la morte assurda di un 83enne Antonio Ippoliti di Pesaro travolto nella notte lungo la statale Adriatica e qui c'è la ricostruzione del Carlino. La pagina di Fano invece del Corriere è per la chiesa, questo rudere della chiesetta di Santa Maria Mare, chiesa ignorata e parcheggio nell'area di pregio archeologico. Santa Maria Mare ridotta a un rudere, forse fu edificata su rovine romane. Il recupero dell'ex chief non è mai stato realizzato in una zona strategica anche per l'immagine della città. si trova alle porte, venendo da Pesaro, alle porte di Fano, dove una volta c'era l'ex chief. Di solito qui si parcheggia, per farvi capire, per andare al mare, qui dietro c'è lo chalet, c'è tutta la spiaggia dell'Arzilla. Quel pezzettino, questo piccolo rudere, pensate, era una chiesetta che forse appunto, come dicono dagli studi, potrebbe essere edificata, stata edificata su rovine romane, quindi di grossissimo pregio. I punti nascita resteranno fino al nuovo ospedale. Ceriscioli, il presidente della regione, ha ribadito la volontà rispondendo all'istanza di Fabri. E questa è la prima pagina del Corriere di Fano. Le altre due, sponsor del Verde. Che autogole? Il PD critica, ma l'atto c'era già. Il bando invocato da fumante è già pubblicato a maggio, l'esito però è stato molto deludente. Le aziende locali poco convinte dell'opportunità di curare il Verde. Il Verde va curato tutto l'anno, non è una cosa semplice e quindi è poco attraente. La contraddizione della maggioranza non sfugge ai 5 Stelle, oggi è, quella del Verde, il vero degrado. Viabilità a rischio, segnaletica da rifare. La capogruppo di Noi Città chiede l'intervento dell'assessorato al traffico. Poi qui di spalla, sempre sul Corriere di Fano, c'è la notizia del ritrovamento di un uomo morto, un suicidio, sgomento a Sant'Urso, l'allarme l'altra sera, inutile, ogni soccorso. A poche ore dal tentativo di suicidio compiuto da una donna anziana dell'età di 94 anni, che tra l'altro ricorderete è stata salvata in extremis dai carabinieri mentre si stava gettando nel porto canale nei pressi del Ponte della Liscia, un altro dramma si è consumato, questa volta però fatalmente, nel quartiere di Sant'Urso. E tutto è successo intorno alle 22.30 dell'altra sera. Gemellaggio di vent'anni rinsaldato dai giochi, una delegazione provinciale ha ricambiato la visita estiva della popolazione di Rastrad, parliamo del gemellaggio con la città tedesca, tra gare di velocità, canoa e precisione, la mostra di Furlani e la musica di Mancinelli. Tutto questo per appunto ricordare questo gemellaggio che c'è ormai da tantissimi, da oltre 30 anni tra Fano e Rastrad, la provincia in sostanza è Rastrad. Demolizione, siamo sul resto del Carlino invece adesso, la prima pagina. Demolizione al cantiere navale si cambia, avviati i lavori per ricevere i grandi yacht sugli appartamenti, invece forse si vedrà qualcosa nel 2019. Poi a Morciola, a Morciola una donna rapinata in casa, mi ha messo il coltello alla gola, terrore all'ora di pranzo, era mascherato e voleva la cassaforte che non c'è. Aveva un accento dell'est, forse un albanese, pensavo davvero di morire. È la reazione della famiglia che ha fatto fuggire comunque il malvivente. Poi la giornata fortunata di un uomo che ha giocato una schedina da 2 euro in via Lubiana a Pesaro, una schedina da 2 euro, ne ha vinti 200 mila. E poi sulle pagine interne del resto del Carlino troverete la Pellegrini che litiga sui social per il cugino di Filippo Magnini e poi le vicende giudiziarie di Porcellini e altre indagini per doping a Rimini. Mentre la tragedia di un pensionato di 83 anni si trova sempre in prima pagina, ha un richiamo in prima pagina, investito, muore sul colpo, scaraventato dall'altra parte della strada. Nasceranno ancora fanesi per ora, questa è la pagina del Carlino di Pesaro, la pagina di Fano. Nasceranno ancora fanesi, Ceriscioli dice che l'ostetricia rimarrà a Santa Croce e poi sarà spostata a Muraglie. Dunque si continuerà a nascere a Fano, città che nel 2016 ha avuto numeri migliori di Pesaro, 857 i nati al Santa Croce, 794 invece quelli che sono nati al San Salvatore, almeno fino a quando non ci sarà il nuovo ospedale unico. Anche sul resto del Carlino la notizia dell'uomo trovato morto, un disoccupato di 47 anni l'altra sera alle 22.50 quando ai pompieri è giunta la chiamata di intervento per soccorrere una persona in un appartamento di via Pierpaolo Pasolini in cui abitava da solo appunto questo 47enne fanese. Poi vi ricordiamo, e questo lo facciamo, lo diciamo anche a tutti quelli che possono partecipare all'Assemblea della Carnevalesca che c'è, è stata indetta l'Assemblea dei Soci dell'ente Carnevalesca per domani sera, quindi giovedì, alle ore 21 al Pesce Azzurro in Viale Adriatica. All'ordine del giorno c'è la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018. E poi c'è anche il consultivo invece del 2015 e del 2016. L'ente Carnevalesca ricorda che è indispensabile presentarsi a questa Assemblea di domani sera con un documento di identità e la tessera sociale, quindi la tessera del socio, 2017. Ogni socio assente può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. È consentita al massimo una delega per socio. E poi c'è la storia, tutta da leggere, scritta questa mattina e pubblicata sul giornale, una storia raccontata da Tiziana Petrelli con la collaborazione di Carlo Moscelli. Io che mi sono sdraiato sul letto di Hitler, la storia di Mario Pieretti, un 89enne, che a 13 anni fece una marachella e si sdraiò appunto nel letto del Führer. Ci fecero vedere, dice lui, la cella del Führer, beffai la sentinella e mi buttai su quel giaciglio. Lui è appunto Mario Pieretti, nel 42 vedete la cella del Führer. E così come oggi invece appunto il signor Mario Pieretti. E questa è la storia che troverete sul resto del carino di oggi. Poi, di nuovo sul Corriere, per andare su Valle Foglie e raccontarvi invece di quest'altra notte di terrore. Questa entra in casa e rapina due coniugi. C'è stata questa irruzione di un uomo con il volto coperto e il coltello in mano. Aveva trovato la chiave infilata nel portone, paura per marito e moglie di Morciola nella fuga spintonata. La nuora ha corso dopo aver sentito urlare. Si, non è la notte di terrore, abbiamo detto che era comunque di giorno, ma cambia poco la sostanza. Il fatto è che c'è stato questo, purtroppo, questo nuovo momento di terrore per tante persone che, ahimè, vivono soprattutto gli anziani. Questi momenti davvero difficili dove non si può stare più tranquilli. L'addio a Cesaroni, oggi al Pelingo. L'ultimo saluto viene tributato alle 15.30 al Santuario del Pelingo, ad Alfio Cesaroni, morto tragicamente sulla Pietralata, dove si era portato per cercare funghi. Il ferritro partirà oggi dall'ospedale di Urbino alle 15.00. E poi un bambino di 8 anni che è stato travolto da un'auto, stava andando a prendere lo scuola bus, è successo sempre a Vallefoglia, non è in gravi condizioni, ricoverate, sta già meglio, via Fermi, strada a rischio. Questa è la strada a Montecchio, dove è successo questo fatto. Più di un'ora per andare in ospedale, invece, l'altra notizia sul resto del Carlino, da Montecrimano Terme, la protesta da Montecrimano, qui dicono Urbino è lontano, Urbino dove c'è l'ospedale più vicino, però è più di un'ora di distanza per portare un anziano con ictus e una crisi epilettica all'ospedale di Urbino. Mentre il nosicomio di Rimini sarebbe stato molto più vicino. Un amico del paziente, dopo aver seguito le operazioni di soccorso da parte del 118, ha scritto una lettera al Ministero della Salute e poi anche ad altri soggetti, proprio per dire che, insomma, è difficile da Montecrimano ad andare a Urbino, insomma, ci vuole più di un'ora. Mentre la team investe su Urbania per internet super veloce. Beati voi di Urbania, pensate che noi, a questo punto lo dico, perché sono anni che stiamo dietro alla Telecom, a questo punto, lo dico ufficialmente, toglieremo team anche dall'ultimo telefonino di questa redazione, perché non è possibile che una zona come questa, dove tra l'altro ormai si è riempita di aziende e quant'altro, la Telecom non riesca a garantire alle aziende che ci lavorano più di 20 mega. A Urbania, super veloce, siamo contenti per voi, qua stiamo pregando tutti i Santi del Paradiso per cercare di avere più di 20 mega e ancora sono anni che non riusciamo a... Perché? Voleste sapere il motivo, cosa mi hanno detto? Perché ci sono i cavi vecchi, perché ci sono i cavi obsoleti, perché qui, perché là, tutte scuse, non si riesce ad avere internet come Dio comanda. Siamo costretti ad andare con 20 mega, a fare streaming, televisione, rete e quant'altro con 20 mega. Quindi questa è la... quindi a riempirsi la bocca con internet super veloce a Urbania, siamo contenti per i Durantini, però insomma questa è... Scusate lo sfogo, andiamo avanti. Marche, ragazzina violentata dal branco, orrore in centro d'Ancona, tre giovanissimi nei guai, un minorenne avrebbe preteso un rapporto orale dalla quindicenne aiutato dagli altri due. Questa è la pagina delle Marche del resto del Carlino, mentre qui di fianco, detenuti a tavola con il Papa, sono i vasi dopo pranzo. A Urbino caccia il biglietto per... gratuito per lo show Sgarbi Raffaele, dialogo tra il critico d'arte e il cantante. Ci sarà questa celebrazione, sarà una celebrazione alle arti urbinati, la serata che andrà in scena questa domenica ad ingresso gratuito alle ore 21 al Teatro Sanzio di Urbino. E tutti a cercare dunque il biglietto. Valle del Cesano, auto si schianta contro il cantiere, urto violento sull'A14, Trafano e Marotta in corrispondenza del cambio di carreggiata, una Subaru finisce sulle barriere, quattro feriti, un'anziana grave soccorsa dall'ambulanza, coinvolto anche un auto articolato, chiaramente ci sono stati anche molti disagi in autostrada, forse una distrazione o l'alta velocità, i coinvolti sono originari di Alassio. Anselmi, siamo sull'ultima pagina della nostra segna stampa, Anselmi e questo signore qua, Andrea Anselmi, che chiude la sua attività a Senigallia. Volete sapere perché? Perché non ne poteva più di combattere contro teppisti e pusher, spacciatori di droga. Allora, Anselmi svuota il suo negozio, però dice, cari genitori, controllate i vostri figli. Il commerciante lascia dunque piazza 4 Agosto, dopo essere stato il bersaglio di questa gente qui. Con le videotelecamere e videocamere ho segnalato giri sospetti alla polizia e adesso però ha deciso di spostarsi da un'altra parte. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.